ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a loris diver 65 orologio che è uscito due giorni fa è una novità una primizia come si suol dire no è appena finito l'embargo io subito l'ho portato sul canale grazie all'amico giacomo che è il settolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte l'ufficiale del canale e me li mette a disposizione no quindi se volete questi oris lui è concessionario ufficiale e diciamo che vi tratta bene dite che vi mando io e vedrete che vi tratta sicuramente bene ora perché ho scelto questo orologio di oris diver 65 recensiti a bizzefi a cominciare dal mio acciaio e bronzo poi se non non sbaglio c'era un'edizione limitata con quadrante bianco poi anche una in bronzo del cotton candy ecco proprio questi cotton candy cosa sono i cotton candy sono quegli orologi quei diver 65 diametro cassa 38 mm con quei bei colori allegri che c'erano sul quadrante no rosa verdino azzurrino orologi che piacciono alle persone leggio adre diciamo così e poi hanno allargato la linea la gamma fino ad arrivare a quello in bronzo con il quadrante nero che avevo presentato che è un pochino più serioso un pochino più adatto a me e adesso in questo caso abbiamo il primo 38 mm che incassa il calibro 400 ecco è la prima volta che un calibro 400 in house di oris viene messo in una cassa da 38 mm quindi diciamo che l'ho portato anche per questo motivo qua perché è un po' una primizia è al di là del colore del quadrante che picchia picchia forte che provo lo vedrete poi allora ci sono ben 92 92 versioni di oris diver 65 a catalogo cioè potete scegliere tra tutti i materiali colori quadranti diametri cassa incroci di calibri veramente sono scomparsi solamente quelli da 42 mm infatti al giorno d'oggi sono presenti solo quelli da 38 e quelli da 40 anzi un'altra novità di questo orologio è che non ha il datario è quella 40 ad esempio non datario ore 6 così come quella 38 in questo caso il 38 senza datario quindi potrebbe piacere a molti va bene ora ho già spoilerato anche troppe cose su questo orologino qua che è tanto simpatico chiaramente la video recensione l'ho un po' tirata via come si suol dire no tirata via non lo faccio sempre con il massimo dell'impegno l'ho un po' accorciata non ho frucugliato al 100% perché andate a vedere le 3-4 recensioni che ho fatto prima del diver 65 e lì troverete ogni volta qualcosina di nuovo no anche se in questo qua c'è qualcosa di nuovo da capire dal ed è interessante sul calibro quindi ve lo spiegherò all'interno adesso prima di passare a questa simpatica panoramica vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta è il mio omega sinaster 300 professional 42 mm di diametro cassa quadrante nero valvola per l'espulsione dell'elio quadrante in ossido di zirconio chi più ne ha più ne metta e lo sto utilizzando ora già un po qualche giorno che vado fisso con lui tranne quando vado in palestra che vi mette lo speed master crometrare i tempi e quando vado in giro al mare un omega sinaster 300 professional perfetto pesantino è quando arriva si arriva sera poi si viene voglia di mettere qualcos'altro di più leggero allora mi metto un vintage o mi metto il villervetta dina wind col nato che leggero fresco va bene comunque questi sono cavoli miei come si suol dire adesso giriamo la camera diamo un'occhiata a questo bellissimo oris diver 65 e poi ci vediamo come al solito per le considerazioni personali apriamo le danze cercando di definire le proporzioni del diver 65 diametro cassa 38 mm spessore 12.7 ingombro trasversale al polso 46.1 e interasse ansa da 19 mm misure che ci descrivono un orologio compatto e dimensionato per polsi di circonferenza contenuta può chiaramente essere indossato da chiunque ma io continuo a prediligere la misura da 40 mm che trovo più commisurata al mio polso farà sicuramente la felicità degli estimatori delle misure ridotte mentre sui polsi più abbondanti si trasforma in una piacevole rappresentazione del gusto vintage dei tempi che furono non lasciatevi ingannare dai 12.7 mm di spessore misurati ben 2 mm appartengono alla quota occupata dal vetro zaffero bombato riducendo a poco meno di 11 l'altezza percepita al polso stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad un orologio classico con forme che non cercano di rappresentare un design all'avanguardia ma che piuttosto mirano a riprodurre quell'atmosfera vintage da cui deriva tutta la serie anse armoniose che si pongono parallele al piano cassa lato carur sottile e lucidato a specchio corre una vita in bella mostra e senza le spallette di protezione caratteristiche ormai note che qui prendono un sapore leggermente differente in quanto la ghiera in metallo va a creare un insieme stilistico che ci restituisce un orologio che ci appare come fosse quasi un blocco unico di acciaio non è infatti presente il classico inserto colorato ci troviamo di fronte ad una ghiera sabbiata che presenta i numeri in rilievo e lucidati a specchio un contrasto che apprezzo molto e che mi ricorda la ghiera del mio 65 bronze simile come concezione ma differente come materiali usati il secondo elemento caratteristico di questo modello è il quadrante il verde va a degradare verso il nero man mano che ci si avvicina al bordo e il risultato che si ottiene è un oscurimento generale della tonalità percepita la finitura soleil per contro tende ad illuminarlo ed in determinate condizioni i riflessi emanati tendono a ravvivarlo e a schiarirlo insomma un diar che riesce a passare dalla semplicità alla sfarzosità in men che non si dica a condire tutto c'è il bordo del vetro che essendo bombato va piacevolmente a distorcere la percezione visiva degli indici un effetto di calore alquanto coinvolgente a livello visivo anche se non appare così accentuato come sul diametro 40 millimetri ma la grande novità di questo quadrante è l'assenza della finestra data particolarità che per molti può essere incentivante e per altri rappresentare un impedimento all'acquisto anche se l'usuale datario ad ore 6 non può essere considerato un minus e io non lo considero tale qui ci troviamo di fronte al trionfo dell'equilibrio simmetrico ottenuto tramite indice a bicchierino e marker singolo ad ore 12 a completare l'opera ci sono poi quelli ai quarti che presentano una sagoma rettangolare ben distinguibili da tutto il resto a parer mio si tratta di una soluzione piacevole alla vista che viene poi resa ancora più apprezzabile da quei piccoli tocchi di pregio quali la tridimensionalità degli indici applicati la sagoma a matita delle sfere principali e quella accattivante lollipop presente sulla sfera secondi tutto equilibrato e ben leggibile in ogni condizione di luce anzi anche al buio grazie all'assenza del datario si riesce chiaramente a distinguere ogni elemento presente e grazie alla differente sagoma degli indici si riesce facilmente a comprendere l'orientamento una nota di merito al dot presente sulla ghiera non era scontato ed infatti sul mio 65 in bronzo non è presente voglio poi sottolineare che l'assenza del datario non comporta alcun scatto fantasma alla corona il calibro è stato realizzato appositamente per i modelli no data si tratta del calibro 400 di oris movimento di architettura proprietaria presentato nel 2020 ed ormai giunto alla maturazione completa dico questo perché si può notare che viene denominato 400 trattino 2 che presumibilmente sta ad indicare la seconda generazione seconda generazione che va a risolvere quel fastidioso saltino delle lancette che avveniva quando si estraeva la corona attenzione non si trattava di un'anomalia da risolvere in assistenza era un comportamento riconosciuto che veniva anche dettagliatamente spiegato nel libretto di istruzioni va da sé che è sicuramente meglio adesso che non presenta più alcun indesiderato scatto lancette un'altra modifica apportata è l'appesantimento della massa periferica del rotore al fine di aumentare la capacità di inerzia e quindi la carica dei due bariletti si due bariletti grazie ai quali l'orologio può raggiungere una riserva di carica pari a cinque giorni continuativi tra le altre cose si tratta di un meccanismo regolato su ben cinque posizioni e lo scarto giornaliero dichiarato corrisponde a meno 3 più 5 secondi un dato inferiore alla certificazione cronometro ultimo ma non ultimo è capace di rientrare nelle tolleranze cronometriche dichiarate fino a 2250 gauss di campo magnetico un ottimo risultato non rimane che disquisire a riguardo del bracciale elemento anch'esso caratterizzante innanzitutto occorre evidenziare il fatto che si passa dai 19 mm del lanza ai 14 mm dell'ultima maglia questa sagomatura gli conferisce un accentuato sapore vintage che viene poi confermato dall'utilizzo dei rivetti in corrispondenza delle maglie più larghe certo non sono funzionali sono solamente decorativi ma ciò non toglie che io riesca ad apprezzarli senza riserve per quello che ci mostrano insomma un bracciale a tre segmenti separati con finitura completamente opaca che vede la classica chiusura a scatoletta dove per una volta i forellini di regolazione rappresentano la soluzione più adatta mai e poi mai riuscirei a concepire un orologio retro di questo tipo con la regolazione automatica della lunghezza non sarebbe il suo possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali eccolo qua oris diver 65 nella versione 38 mm ghiera acciaio senza data e calibro 400 una cosa che non ho detto durante la recensione che l'effetto ciambella non c'è perché essendo da 38 mm con il calibro 400 che ben ampio ecco fatto che non fa nessun effetto ciambella riempie bene tutto il retro il side b dell'orologio e mi piace guardare questo bel calibro 400 è che come finiture è abbastanza povero tra virgolette nel senso che vuole essere contemporaneo moderno al passo con i tempi non va ad imitare il berlage o il cot de jeneuve c'è la sua bella finitura sabbiata opaca grigia è questo è un punto che non gli si può togliere personalità poi c'è anche da dire che l'orologio giunge tutti quelli con il calibro 400 a dire la verità con dieci anni di garanzia e primo service consigliato dopo dieci anni quindi significa che voi per dieci anni non dovete pensare né alla manutenzione né a eventuali problemi di risolvere in assistenza per dieci anni pensate questo vuol dire che loro si fanno forti del fatto che sono quasi sicuri del fatto che non abbia problemi oppure che sono disposti a darvi una mano venirvi incontro lo pagate già nel prezzo iniziale dell'orologio dieci anni senza tirare fuori un soldo in caso di problemi pensate che avrebbero potuto fare gli sboroni no e portare più soldi alla casa e dire vabbè qua il service va fatto ogni ogni tre anni se non ventano ogni tre anni io ti do ti do la garanzia che dura fino a dieci anni capito ti così sei obbligato a spendere ogni tre anni per il service invece no per dieci anni vabbè mi sono dilungato anche troppo poi per il resto i pregi e i difetti del 65 li conosciamo tutti e tre punti deboli molti mettono i 100 metri di impermeabilità ma per me proprio non sono 100 metri di impermeabilità un punto debole tanto più che il mio me lo porto al mare ci faccio il bagno ci faccio i tuffi ci faccio quello che mi pare e sopravvive e resiste poi mi piace se lita sv200 questo c'è il calibro 400 che garantisce meno 3 più 5 secondi al giorno quindi non ci avete nemmeno lo sbattimento di andare fuori fuori tempo massimo diciamo così il mio con sellita prende 12 secondi al giorno se lo metto nella scatola del tempo per cinque giorni vedo già che un minutino passa lo prende no quindi tocca metterci in mano regolarlo questo qua è già più preciso altronde un calibro in house poi che dire punti positivi tutti i punti positivi del bracciale che bello che era strema da 19 a 14 è veramente una cosa punto punto debole forse i rifinti rivetti per molti finti rivetti come nel caso dei bracciali tudor sono punto debole per me non lo sono per me esteticamente parlando fanno il suo fanno il loro italiano corretto e fanno il loro quindi per me va benissimo così altri punti punti deboli non ce n'è altre cose da dire manca la data molti piacerà molti no però secondo me come 38 mm ho visto stava bene anche a mio polso alla fine nella recensione ho detto che preferisco 40 preferisco 40 però il 38 mi stava bene devo dire che ecco forse il verde non è col mio colore preferito per un orologio attenzione non ho anche detto però che assieme a questo è uscita anche una versione in edizione limitata a 200 pezzi con il quadrante celeste azzurrino attenzione questo mi ero dimenticato quindi ce ne sono due di versioni una è limitata questa no è a catalogo quell'altra costa qualche centinaio forse 1 200 euro in più non ne vanno tanto però c'è quella azzurra ricordatevelo questa è catalogo per sempre ecco io magari sapete che sono un pochino più per i quadranti un pochino più scur neri però il verde va di moda io vi ho messo sul piatto tutte queste simpatiche nozioni ingredienti caratteristiche e voi decidete poi se vi piace o se non vi piace se fa per voi o se non fa per voi a quel prezzo lì c'è una marea di orologi quindi potete scegliere ampiamente no io ho fatto una piccola panoramica adesso però mi dispiace ragazzi ma vi devo lasciare veramente perché mi urge è impellente per me andare a vedere i video dei gattini su instagram che fanno i saltini qua e là no quelli mi piacciono tanto mi rilassano quindi devo andare e vi devo lasciare se no sarei stato qui ad ore con voi vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao